Tonight, right here in the city of Vaughan, I'm pleased to let you know that in partnership with DIO Cambridge, the first indoor creative by Cirque du Soleil, the world in the world will be right here in the city of Vaughan. Nel corso del Mayor's Gala, svoltosi il 21 giugno 2018, il sindaco di Vaughan, Maurizio Bevilacqua, ha annunciato che Vaughan sarà la sede del primo centro al coperto al mondo del Cirque du Soleil Creative. A seguito di tante congetture dei media, sono fiero di annunciare che Cirque du Soleil Entertainment Group e Ivano e Cambridge, proprietari di Vaughan Mills, hanno scelto Vaughan per il primo centro di intrattenimento per la famiglia, Create Active, che aprirà i battenti a settembre del 2019 nel centro commerciale di Vaughan Mills. Create Active è un nuovo straordinario concetto innovativo di intrattenimento per tutte le età, con la partecipazione attiva a tutta una serie di attività acrobatiche che vanno dal trapezio al trampolino. L'arrivo del Cirque du Soleil Creative è un'ulteriore dimostrazione che Vaughan è la città in cui vivere, ha detto il sindaco Maurizio Bevilacqua, con una punta di orgoglio.